I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria nel corso del servizio finalizzato al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e dell'abusivismo commerciale hanno individuato un negozio del falso tra le vie più importanti dello shopping regino. La compagnia di Reggio Calabria ha osservato un anomalo via vai di persone nei pressi di un appartamento di via Tenente Panella in pieno centro cittadino. I militari dopo aver fatto irruzione nell'immobile hanno rinvenuto centinaia di articoli contraffatti esposti su scaffalature e banconi come un normale negozio. Scarpe, giubbini, felpe, pantaloni, cappellini, borso, occhiali da sole, cinture, portafogli ed orologi. Tra le griffe contraffatte le più note sono quelle di Nike Air Jordan, Louis Vuitton, Gucci, Rolex, Barberi, Dior, Valentino, Versace, Moncler, Empori Armani, Dolce Gabbana e Moschino. Tra i prodotti contraffatti esposti vi erano anche cosmetici come ad esempio profumi Paco Rabanne, Hugo Boss, Chanel, Prada, Versace, Armani, Gucci, Dolce Gabbana, Lacoste, Dior, Bulgari e creme per il viso, Lancome e Dior. Nonché bottiglie di champagne, muette e chandone. All'esito delle attività di perquisizione sono stati sequestrati complessivamente oltre 800 articoli di merce contraffatti e 400 euro in contanti. Nei confronti del responsabile dell'attività illecito, un cittadino italiano di 31 anni denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria, l'autorità ha convalidato il sequestro di iniziativa delle fiamme gialle. Sono in corso inoltre ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione dell'intera filiera del falso per individuare i centri di produzione e di distribuzione delle merci.